Passando invece alle novità di novembre, allora l'esonero per le lavoratrici madri, ne abbiamo già accennato lo scorso webinar, quindi ricordiamo che è diventato operativo, l'esonero contributivo del 50% in favore delle madri che sono rientrate dal congiunto di maternità, è sperimentale per l'anno 2022, dura 12 mesi. Quindi è cosa fondamentale che la lavoratrice rientri sul posto di lavoro entro il 31 12 2022 e un esonero a favore solo della lavoratrice, quindi il datore di lavoro non vedrà sostanzialmente una riduzione dei costi, ma la dipendente vedrà un netto in busta paga più alto. Cosa deve fare la lavoratrice per richiederlo? Deve sostanzialmente fare una richiesta, consegnarla al datore di lavoro che richiederà all'Inps per conto della dipendente un codice sgravo specifico proprio per lei, quindi legato al suo codice fiscale. Allora, è uscito un chiarimento dell'Inps il 9 di novembre. Cos'è stato detto? In buona sostanza è stato detto che al congedo obbligatorio io se attacco congedo parentale, ferie, insomma malattie eventualmente, mi fanno slittare l'inizio dell'esonero. Quindi per avere diritto all'esonero io devo rientrare al lavoro, proprio devo lavorare entro il 31 12 2022, anche solo qualche giorno, quindi sono stati fatti quattro esempi. Nel primo caso c'è il congedo obbligatorio che finisce quasi a fine luglio, si attacca al congedo parentale, si attaccano delle ferie, a settembre, dal 15 settembre la lavoratrice rientra al lavoro, quindi il suo esonero sarà dal 15 settembre al 14 settembre 2023. Nel secondo caso la lavoratrice subito dopo il congedo rientra al lavoro un periodo per poi prendersi congedo parentale e ferie, in questo caso l'esonero sarà di 12 mesi, a partire dal 19 luglio, cioè la data del rientro. Nel terzo caso la lavoratrice fa prima congedo, poi congedo parentale, rientra al lavoro, poi fa ferie, poi malattia. In questo caso appunto il congedo parte dal 15 settembre, cioè dal giorno in cui rientra al lavoro. E in ultimo c'è il congedo obbligatorio, poi congedo parentale, poi le ferie, poi il rientro, poi la malattia, parte sempre dal primo giorno di rientro fisicamente al lavoro, fisicamente in smart working, non importa, però la lavoratrice deve lavorare attivamente. Allora, io, dato che siamo, insomma, abbiamo superato già i 40 minuti, non sto, allora qua semplicemente sono, abbiamo fatto graficamente quelli che sono gli esempi che sono stati portati nel messaggio Inps, qua insomma ve li lascio leggere a voi, ma non trovate, trovate semplicemente quello che abbiamo rappresentato graficamente. Per quanto riguarda i 150 euro della busta paga di novembre, invece ricordiamo che la soglia rispetto ai 200 euro di luglio è stata diminuita a quelli che sono, eventualmente sarebbe un aral di 20.000 euro annui. Quindi parliamo della retribuzione di, cioè spetteranno ai lavoratori che nella retribuzione di novembre hanno un imponibile previdenziale di 1538 euro massimo. Sarà riconosciuta in automatico a fatto che il lavoratore abbia sottoscritto una dichiarazione messa a disposizione dall'Inps. È stato chiarito dall'Inps che qualora il lavoratore abbia sulla busta anche un ratio di tredicesima, perché alcuni lavoratori hanno i rate in busta, in quel caso devo scorporare il ratio di tredicesima e considerare proprio solo la mensilità ordinaria, ai fini della valutazione del superamento meno, dei 1538 euro. E qualora non sia stato possibile, per motivi organizzativi, erogare i 150 euro nella busta di novembre, potrò erogarla comunque nella busta di dicembre. Quindi queste sono le precisazioni che sono state fatte. Ultimissima novità, l'Inps ha comunicato che relativamente ai nuovi congedi parentali che sono stati affrontati nell'altro webinar, è possibile sostanzialmente effettuare le domande per i nuovi congedi parentali che sono stati spiegati nell'altro webinar, anche retroattivamente. Grazie. Grazie.